Onorevole Nicola Molteni, dopo il grave fatto di sabato 11 maggio a Milano dove in zona di guarda un ganese ha ucciso tre persone, la Lega Noda presenta un'interrogazione a risposta immediata al Ministro della Cooperazione Internazionale. Che cosa chiedete? Noi presentiamo domani un'interrogazione al Ministro dell'Integrazione proprio per chiedere conto di quello che è accaduto. In questi giorni non abbiamo sentito neanche una parola di sdegno, neanche una parola di condanna o di indignazione da parte del Ministro per i fatti che si sono verificati a Milano dove, lo ricordiamo, un immigrato clandestino ha ucciso a picconate tre persone e altrettante le ha ferite. Un fatto gravissimo, un fatto inaudito a cui chiederemo conto al Ministro. Inoltre in questi giorni sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa, segno che le politiche e le dichiarazioni del Ministro orientate alla cancellazione del reato di immigrazione clandestina, alla chiusura dei CIE, allo smantellamento della legge Bossi-Fini e alla modifica della legge sulla cittadinanza stanno evidentemente creando problemi al nostro Paese. Quindi noi vogliamo ribadire con forza che il reato di immigrazione clandestina serve e è utile proprio perché il nostro Paese non può nuovamente aprire i confini ad un'immigrazione che come spesso capita è legata a doppio filo con fatti di criminalità e di delinquenza. E quindi la Lega farà un'opposizione durissima nell'Aula parlamentare contro ogni proposta di modifica delle normative sull'immigrazione clandestina. Il nostro Paese ha bisogno di norme rigide, di norme rigorose, di norme stringenti, non abbiamo bisogno di integrazione, non abbiamo bisogno di accoglienza, non abbiamo bisogno di solidarietà ma abbiamo bisogno che le leggi presenti nel nostro Paese vengano rispettate e soprattutto vengano applicate. Faremo un'opposizione durissima in Parlamento contro qualunque modifica ma faremo anche un'opposizione in mezzo ai cittadini tant'è che questo fine settimana raccoglieremo delle firme proprio per sentire l'umore da parte dei cittadini contro l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina e contro l'introduzione dello Iussoli.